Se dico 50, a cosa pensi? Ai 50 anni di matrimonio dei nonni? Che tenerezza! Alle 50 stelle sulla bandiera americana? Come on! Ai 50 centesimi nel carrello? Vai con la spesa! A 50 sfumature di grigio? Ehi! A me il 50 fa pensare a questo. Adesso stampati bene questo numero in mente. Vai! Quest'auto viaggiava a 50 chilometri orari. Ricordatelo, non esiste una velocità sicura. Tuo è rischio, tu ha la responsabilità. Guida con prudenza. Non ti distrarre.